Archiviata l'edizione 2022 della Rassegna Armonia Natalizia, organizzata l'amministrazione comunale di Adano, che si è svolta in gran parte all'Arena dell'Etna, l'amministrazione comunale ha già avviato la programmazione degli eventi del Carnevale 2023. Il programma è ancora in fase di elaborazione, quello che è certo è che le strutture oggi presenti all'Arena dell'Etna, protagoniste con il Natale, saranno protagoniste anche con il Carnevale. Come annuncia ai nostri microfoni il sindaco Fabio Mancuso. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, o da attori principali, oppure da supporto a quella che è stata una bellissima manifestazione apprezzata da tutta la Sicilia, apprezzata anche fuori dalla Sicilia, grazie ai canali social, grazie anche ai vostri reportaggi che avete fatto nella televisione e a tutti gli altri che hanno voluto contribuire a un grande successo di partecipazione e anche di serenità e felicità delle famiglie adranite e nonna. C'è un progetto che continua, perché l'Arena dell'Etna, l'abbiamo detto tantissime volte, è un'opportunità e questa opportunità non ce la facciamo scappare. Intanto c'è una grande richiesta affinché la pista di ghiaccio rimanga ancora per questo inverno a disposizione dei ragazzi. In queste ore stiamo decidendo appunto di farla rimanere nell'Arena dell'Etna, a disposizione dei ragazzi, senza aumentare il prezzo del biglietto che non c'è, c'è solo l'affitto dei pattini. Quindi vediamo di chiudere questo accordo con la società e dare la possibilità ai ragazzi nel pomeriggio di poter frequentare l'Arena dell'Etna e quindi la pista di ghiaccio. Poi è partita tutta una organizzazione che non riguarda solo il carnevale ma anche l'accompagnamento al carnevale. Nel senso che dalle settimane prossime l'Arena dell'Etna sarà aperta, il venerdì, il sabato e la domenica. Ci saranno tutta una serie di attività musicali, teatrali che saranno da accompagnamento a quella che è la kermesse del carnevale. E poi il clou che partirà dal giovedì grasso fino al martedì dove quest'anno non ci saranno i carri. Non c'è il tempo per programmarli, lo faremo il prossimo anno ma ci saranno tantissime sorprese soprattutto per i bambini in modo particolare, per tutti i gruppi organizzati della città, i gruppi di ballo, le associazioni sportive. E poi abbiamo anche pensato di coinvolgere i licei della nostra città dove il percorso che vogliamo seguire è quello di una grande festa dei licei qui ad Adrano, una festa che sarà fatta all'interno dell'Arena dell'Etna con una giuria che valuterà il mister, come si faceva una volta, la miss del liceo e poi la miss dell'Arena dell'Etna che diventerà la regina del carnevale. Un carnevale nuovo senza gruppi in maschera, mi pare di capire. È un carnevale nuovo con i gruppi in maschera che possono essere presentati in due momenti, sia quelli dei bambini e quindi anche quelli delle scuole, che anche quelli dei gruppi più grandi, nelle giornate del carnevale proprio, da giovedì a domenica. Non ci sarà l'affilata classica, se non quella delle scuole alla villa comunale, ma ci sarà all'interno dell'Arena con la presenza delle televisioni, con la presenza del pubblico affinché tutto venga fatto nel migliore dei modi.